Il tecnico della Torrese, Remigio Cristofari, risparmia Maurizio Chiacchiarelli, ancora non al meglio della condizione fisica, Martinsicuro, Puglia, Torbidone e Maio in attacco. La distrazione in avvio dei Biancazzurri è quasi congenita, ormai Lino Petronio dalla bandierina imperioso. Roberto Ferri, equilibrio che dura solo una manciata di secondi. Il raddoppio è siglato da Maio, che appoggia in rete tutto facile, imbeccato da Puglia, soffre maledettamente in apertura. Il Martinsicuro, le incursioni sugli esterni, Petronio sulla traiettoria, si fionda ancora Maio per il 3-0. Tutto fin troppo semplice, ma è un lampo di Emanuele Ciaffre a riaprire l'incontro. Colpo da biliardo con il mancino che bacia la base del palo e si infila in rete. Immagini e montaggio di Mario Giacchetta prende coraggio. Il Martinsicuro ci credono gli uomini di guido di Fabio. Lorenzo Pizzi accorcia ulteriormente le distanze. Il Tommolini può esultare nel derby Teramano, ma a spegnere l'entusiasmo lo spunto di Puglia fermato. Irregolarmente in aria sono tre. Le marcature per Francesco Maio, che realizza su calcio di rigore, può tirare. Un sospiro di sollievo Remigio Cristofari. Lucchetto alla sfida si mette in proprio. Gabriele Puglia vuole inserire il proprio nome nel tabellino. Qui tutto solo fallisce. Occhi negli occhi con Cannella prende le misure alla porta. E ancora lui in campo aperto, stavolta deposita in rete. Vittoria meritata. Sia pur con qualche brivido nella fase centrale. Torrese batte Martinsicuro. 5 a 2. Avevo detto in settimana che avremmo affrontato una squadra che comunque voleva ben figurare. Allenata dal miglior tecnico, secondo me, della categoria. E quindi dipendeva da noi rendere facile questa partita. Non è mai facile vincere. Siamo andati in vantaggio di tre reti. Abbiamo un pochino abbassato la tensione. Sono rientrati fortemente i ragazzi di Mister Di Fabio facendo due gol. Lì abbiamo avuto 5-10 minuti un pochino di sbandamento con tanta confusione. Poi abbiamo avuto la forza di fare altre reti, di chiudere la partita. Però, ripeto, non è mai facile vincere una partita d'eccellenza. La squadra c'è sempre. La prestazione, peccato che, regalate sempre i primi dieci minuti all'avversario e poi arriva la reazione. Sì, purtroppo abbiamo questo problema. Entriamo in campo abbastanza bene. Abbiamo un paio di minuti di blackout dove prendiamo il gol. Una volta preso il gol, non so, forse riusciamo ancora di più a dare cattiveria. Oggi io sono orgoglioso dei miei compagni, che oramai posso chiamare i fratelli perché oramai, essendo il più vecchio, posso dirlo. Orgogliosissimo di loro. Stavamo recuperando una partita con una grandissima squadra, con giocatori come Maio e Pietro Paolo, per citarne due. Quindi, niente. Purtroppo ci eravamo andati ancora più vicini oggi, ma speriamo alla prossima.